Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillole Anni 92.000, oggi per lo spazio dedicato alle discoteche vi parlerò della discoteca Florida di Ghedi in provincia di Brescia. E allora siete pronti? Vai con le Pillole Anni 92.000 di oggi! Nel corso del 1970 nasce a Ghedi un parco acquatico e sportivo di grandi dimensioni. I titolari della struttura nutrivano una fortissima passione verso la musica e gli eventi giovanili. E fu così che fu costruita un'area discoteca. Inizia così la lunga storia della discoteca Florida, ma nel corso degli anni 80-90 esplode il fenomeno della musica dance e in Florida raggiunge un successo incredibile. La piccola area deputata discoteca si allarga di smisura ed in Florida entra nel goto dei migliori club italiani. Superati i decenni dei grandissimi successi, in Florida continua a proporre serate di grandissimo interesse, specializzandosi come location da eventi one night. In questi anni la discoteca Florida ospita tantissimi DJ di fama internazionali e alcuni dei parti di maggior successo nel panorama della nightlife nazionale. La lista dei DJ che sono passati al Florida è davvero interminabile. Per dare un'idea della qualità musicale proposta in questi anni, possiamo menzionare la partecipazione di DJ come Chris Libbing, Cyberpunkers, Satoshi, Tomie, Speedy Jay, The Prophet, The Stunned Guys, Vitalik e tantissimi altri ancora. La struttura propone quattro diverse sale, ognuna delle quali completamente indipendente. Si tratta di una struttura rinnovata che mantiene le caratteristiche principali delle classiche discoteche dei tempi d'oro, piste da balle immense, impianto audio e luce di altissima qualità, grandi spazi e atmosfera da puro club. La discoteca Florida propone musica, ballo e divertimento, sia nelle aree al chiuso che negli splendidi giardini. Nel corso di questi ultimi anni in Florida è diventata la location ideale per eventi afro, dance, hardcore e rock. E proprio di un evento hardcore vi voglio far vedere uno spezzone video risalente al 2007. Ma molti altri sono gli eventi che si sono svolti al Florida, possiamo ricordare Emotion, Megalopolis, oltre all'evento mensile tutti a Novanta. Proprio di questo evento vi faccio vedere due spezzoni video, uno preso dal 2009 quando di fatto in quel periodo cominciarono appunto gli eventi tutti a Novanta e uno invece un po' più recente in cui suonavano i Datura. Andiamo a vederli. Ciao! 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 in todos, in todo, in todos. Insomma questa era la discoteca Florida di Gedi in provincia di Brescia, se ci siete stati magari fatemelo sapere nei commenti, se avete delle integrazioni fatemelo sapere nei commenti e magari se volete proprio raccontare voi in prima persona fatemelo sapere e organizziamo una call e sarete voi a raccontare questa e altre discoteche magari di cui siete stati i protagonisti. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima!